4 maggio 1771 come sono lieto di essere partito amico carissimo che è mai il cuore dell'uomo ho lasciato te che amo tanto al quale ero inseparabile e sono lieto pure so che tu mi perdonerai tutte le altre persone che conoscevamo non sembravano forse scelte apposta dal destino per angosciare un cuore come il mio povera leonora eppure io ero innocente che potevo fare se mentre le grazie capricciose di sua sorella mi procuravano un piacevole passatempo in quel povero cuore nasceva una passione ma sono proprio del tutto innocente non ho forse alimentato i suoi sentimenti non mi sono direttato delle sue sincere ingenue espressioni che tanto spesso ci facevano ridere e che erano invece così poco risibili non ho io l'uomo deve sempre piangere su se stesso io voglio caro amico e te lo prometto io voglio amendarmi non voglio più rimuginare quel po di male che il destino mi manda come ho fatto finora voglio godere il presente e voglio che il passato sia per sempre passato senza dubbio tu hai ragione carissimo i dolori degli uomini sarebbero minori se essi io sa perché siamo fatti così se se non si affaticassero con tanta forza di immaginazione a risuscitare i ricordi del male passato piuttosto che a sopportare un presente privo di cure sarai così buono di dire a mia madre che sbrigherò nel miglior modo possibile i suoi affari e gliene darò notizie quanto prima ho parlato con mia zia e non ho affatto trovato in lei quella donna cattiva che da noi si ritiene lei sia è una donna ardente passionale e di ottimo cuore le ho reso noti la mente di mia madre per la parte di eredità che lei ha trattenuta mi ha esposto le ragioni e mi ha detto a quali condizioni sarebbe pronta a rendere tutto e anche più di quanto noi domandiamo basta non voglio scrivere altro su questo via mia madre che tutto andrà bene intanto a proposito di questa piccola questione ho osservato che l'incomprensione reciproca e l'indolenza fanno forse più male nel mondo della malignità e della cattiveria almeno queste due ultime sono certo più rare del resto io qui mi trovo benissimo la solitudine è un balsamo prezioso per il mio spirito in questo luogo di paradiso e questa stagione di giovinezza riscalda potentemente il mio cuore che spesso rabbrividisce ogni albero ogni siepe è un mazzo di fiori e io vorrei essere un maggiolino per librarmi in questo mare di profumi e potervi trovare tutto il mio nutrimento la città in se stessa non è bella ma la circonda un indicibile splendore di natura questo spese il defunto conte m a piantare un giardino sopra una delle colline che graziosamente si intrecciano e formano leggiadrissime valli il giardino è semplice e si sente fin dall'entrare che ne tracciò il piano non un abile giardiniere ma un cuore sensibile che qui voleva godere se stesso ho già sparso lacrime con colui che non è più in quel cadente gabinetto che era un giorno il suo posticino favorito e che ora è il mio presto sarò padrone del giardino il giardiniere mi si è già affezionato in questi pochi giorni e non dovrà pentirsene 10 maggio la mia anima è pervasa da un'amirabile serenità simile a queste belle mattinate di maggio che io godo con tutto il cuore sono solo e mi rallegro di vivere in questo luogo che sembra essere creato per anime simili alla mia sono così felice mio caro così immerso nel sentimento della mia tranquilla esistenza che la mia arte ne soffre non potrai disegnare nulla ora neppure un segno potrei tracciare eppure mai sono stato così gran pittore come in questo momento quando l'amata valle intorno a me si avvolge nei suoi vapori e l'alto sole posa sulla mia foresta impenetrabilmente oscura e solo alcuni raggi si spingono nell'interno sacrario io mi stendo nell'erba alta presso l'uscello che scorre e più vicino alla terra osservo mille puntiformi erbette allora sento più vicino al mio cuore pubblicare tra gli steli il piccolo mondo degli innumerevoli infiniti vermiciattoli e moscerini e sento la presenza dell'ogni possente che ci ha creati a sua immagine e ci tiene in un'eterna gioia amico mio quando dinanzi ai miei occhi si stende il crepuscolo e posa intorno a me il mondo e il cielo tutto nell'anima mia come la sembianza di donna amata allora spesso sono preso da un angoscioso desiderio e penso potessi tu esprimere tutto questo trasfonderlo sulla carta così pieno e caldo come vive in te e fosse questo lo specchio della tua anima come la tua anima è specchio del dio infinito ma mi sprofondo in un avvisso e mi inchino alla potenza dello splendore di questa visione 12 maggio io non so se spiriti ingannevoli si librino su questa contrada o se la calda celeste fantasia che nel mio cuore prenda tutto così paradisiaco intorno a me ecco lì una fonte una fonte alla quale io sono legato come melusina alle sue sorelle tu scendi per un piccolo poggio e ti trovi dinanzi un arco da dove venti scalini ti conducono giù a una limpidissima acqua che sgorga da rocce marmore il piccolo muro che chiude il recinto gli alti alberi che l'ombreggiano intorno la freschezza del luogo tutto questo ha un non so che di piacevole e di attraente non passa giorno che io non sia da lì un'ora vengono dalla città le fanciulle ad attingere acqua innocente e necessaria faccenda che una volta compievano le stesse figlie dei re e quando sono lì il mio mondo antico patriarcale rivive potentemente in me e ripenso come i nostri padri alla fontana stringevano e rompevano relazioni e come attorno alle fontane e alle sorgenti ondeggiassero spiriti benefici colui che non può partecipare a questi sentimenti non deve mai essersi dissetato a una fresca fontana dopo una faticosa passeggiata in un giorno d'estate 13 maggio mi domandi se devi spedirmi i miei libri mio caro te ne prego in nome di dio tienimeli lontani non voglio più essere guidato ravvivato infiammato questo cuore arde abbastanza per se stesso ho bisogno di un canto che mi culli e questo l'ho trovato in tutta la sua pienezza nel vecchio omero quante volte io calmo il mio sangue ardente perché tu non avrai mai visto nulla di così mutevole come il mio cuore amico mio ho bisogno di dire questo a te che tanto spesso ne hai sopportato il peso e che mi hai visto passare dall'affanno ai più arditi sogni e da una dolce malinconia alla più funesta passione in modo che io considero il mio cuore come un bambino ammalato e gli concedo ogni capriccio ma non lo dirà nessuno e sarebbero persone che non me lo perdonerebbero 15 maggio l'umile gente del villaggio ormai mi conosce e tutti mi vogliono bene specialmente i bambini sulle prime quando io mi univo a loro e li interrogavo amichevolmente su questo e su quello alcuni credevano che io volessi prendermi gioco di loro e mi rispondevano bruscamente io non me ne ebbia male soltanto compresi più distintamente quanto spesso avevo già osservato le persone di una certa condizione si tengono a una fredda distanza dal popolo come se credessero di perdere qualche cosa avvicinandolo vi sono poi giovani spensierati e malvagi burloni che ostentano di abbassarsi per far maggiormente sentire alla povera gente la loro superbia va bene che noi non siamo ne possiamo essere tutti uguali ma ritengo che colui quale sente il bisogno di allontanarsi dalla cosiddetta plebe per averne il rispetto e biasimevole quanto un codardo che si nasconda al suo nemico per tema di esserne ucciso di recente andai alla fontana e trovai una giovane donna di servizio che aveva posato il secchio sull'ultimo scalino e guardava intorno per vedere se nessuna compagna venisse e l'aiutasse a posarlo sulla testa io scesi e la guardai posso aiutarvi le chiesi diventò rossa rossa e disse oh no signore senza complimenti si aggiustò il cercine e io l'aiutai mi ringraziò e salì per la scala 17 maggio ho fatto conoscenze di ogni specie ma non ho ancora trovato la società non so che cosa posso avere di attraente per questi uomini molti di loro mi vogliono bene seguono e mi dispiace quando la nostra via è comune solo per un piccolo tratto se tu mi domandi com'è qui la gente dovrò risponderti come dappertutto la razza umana è così uniforme e più passano la maggior parte del tempo lavorando per vivere e nei brevi momenti di libertà che rimangono loro si tormentano per cercare ogni mezzo per essere liberi oh destino degli uomini il resto è proprio della buonissima gente talvolta io mi concedo un momento d'oblio e godo con loro le gioie che all'uomo sono concesse sedere a una parca mensa con animo aperto e cordiale fare una gita disporre di una ritmica danza e semili cose questo esercita allora su di me una benefica influenza soltanto io non devo pensare a tante altre forze che sono latenti in me e si corrompono inutilizzate e che io devo accuratamente nascondere il mio cuore ne è angosciato ma pure essere incompresi è la sorte di tutti noi se fosse qui l'amica della mia giovinezza se io l'avessi conosciuta ma dovrei dire a me stesso tu sei un pazzo tu cerchi ciò che in nessun luogo si può trovare ma io l'ho avuta ho sentito il suo cuore la sua grande anima e il suo cospetto mi sembrava di essere più di quello che io ero perché ero tutto ciò che potevo essere buon dio c'era allora una sola forza della mia anima che rimanesse inattiva non potevo io forse spiegare tutto il mirabile sentimento con il quale il mio cuore comprende la natura non erano forse i nostri colloqui un eterno intrecciarsi del più elevato sentimento e del più acuto intelletto in cui le gradazioni fino a quelle del malgarbo erano segnate dall'ombra del genio e ora la sua età più grave della mia la condotta alla tomba più presto di me e io non dimenticherò mai il suo forte sentire nella sua divina tolleranza da pochi giorni ho incontrato un giovane b dall'aspetto simpatico e aperto esce ora dall'università non si ritiene un dotto ma crede di saperne più degli altri infatti per quel che ho potuto capire si è applicato a studi di ogni sorta e a notevoli cognizioni appena ha saputo che io disegno molto e che so il greco due cose miracolose in questo paese è venuto da me e ha fatto pompa di molta sapienza da bateau a wood da de pille a vinkelmann mi ha assicurato che egli ha letto tutta la prima parte della teoria di sulzer e che possiede un manoscritto di heinel sullo studio dell'antichità io l'ho lasciato dire ho fatto conoscenza con un'altra brava persona il borgomastro uomo leale e schietto pare che sia una vera gioia spirituale vederlo tra i suoi figli ne ha nove e specialmente si dice un gran bene della figuola maggiore mi ha pregato di andarlo a visitare e vi andrò una di questi giorni abita in una tenuta di caccia del principe a un'ora e mezzo da qui dopo la morte di sua moglie ha avuto il permesso di ritirarvisi perché il soggiorno in città e nella casa comunale gli faceva troppo male inoltre ho incontrato degli originali in cui tutto è spiacevole e soprattutto insopportabili sono le manifestazioni di amicizia addio questa lettera tutta storica ti piacerà